Musica Oh 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 Ciao a tutti e a tutti e a tutti i video sono Nico E oggi ci vediamo in questo nuovissimo game Su MCSG nella mappa Parse 82 Holiday Edition Eh proprio l'edition di Natale Eh io ho la skin col cappellino di Natale E quindi siamo a tema Sì Nico è riuscito ad essere a tema in una mappa per una volta E questi qua iniziano fin da subito a tirarmi dei pugni Non mi piace molto come cosa Vediamo di prenderci questa chest qua Trovare l'arma e prenderla noi E ora andiamo a massacrare Oh tu hai tra l'altro un bellissimo corpetti in ferro Grazie mille amico per avermi offerto il tuo corpetti in ferro Sei stato molto gentile e generoso No Eh vabbè hai voluto suicidarti Vabbè fai come vuoi Spero di trovarne un altro Tu sei stato cattivo comunque Tu mi hai tirato il pugno Tu adesso ci dovevi morire per mano mia Ehm va bene Ehm ci mettiamo questa roba qua Questi bellissimi Ehm gambali che ci stanno Abbiamo anche un flint and steel Adesso ci mettiamo a posto anche la mela d'oro Siamo messi già in modo decente direi Visto che adesso devo ancora prendere due belle t2 Ehm spero sinceramente di riuscirmi a fare full iron o quasi Ok ecco il corpetto che ci serviva Che quel tizio là ha deciso di non donarci Perché lui è antispirito natalizio E quindi ha pensato bene appunto di essere cattivo E probabilmente i fantasmi Eh presente Passato e futuro Dovranno a prendere stasera E vabbè sono cavoli soli No la sera del 25 No la vigilia La vigilia Ehm la vigilia ovvero il 24 Ci devo anche pensare quando è la vigilia Quello è il fatto Ehm Prendiamoci adesso qua Queste belle cose Buttiamo qua sta roba Tanto non ci serve Non penso che nessuno verrà mai a guardare qua su A parte io e un altro paio di player Che siamo alternativi Ci piace fare i chest root strani Perché questo qua io lo considero un chest root strani Io ragazzi faccio solo dei chest root stranissimi Per esempio questo qua ragazzi Ci sono soltanto un paio di t2 Però cosa succede? Che non ci va nessuno E allora io dico ci vado io Così mi prendo qualche t2 gratis Ehm Nessuno di solito mi fastidisce Anche se ogni tanto trovo qualche Tizio che viene a infastidirmi E non tizio 20 Non in paura Chris Salvate Chris Ragazzi allora Io questo video dovrei stare a registrarlo Con la Ehm Col 1920x1080 1920x1080 Che io apprezzo molto come qualità Però C'è un però Ho un piccolissimo Gigantesco Minuscolo Io Grazie a tutti